buonasera visto realmente insomma siamo riusciti a recarci a recarci dal parrucchiere per darci insomma una spuntatina ecco perché l'omaggio a montanelli ok però l'onganesi devo dire che dall'albilà per le condizioni in cui ero quando ho fatto la sua prima live mi ha bacchettato quindi per questo insomma ho dovuto essere un pochettino più in ordine ecco allora quindi oggi io devo salutare aurora aurora vedo che sei contenta finalmente il mitico michele valeria aspettiamo che devi un po di gente anzitutto io devo parlare con aurora scusate uscite tutti tutti uscite tutti io devo parlare con aurora perché allora quindi da oggi le live le faremo di lunedì io però posso mettere un po più perché vorrei guardarvi insomma sembra che sembra che sono strabico ogni volta se sono di lato vabbè allora allora non aurora allora è accaduto che vi ricordate il sondaggio la guerra civile tutto eccetera eccetera no è accaduto che comunque già dopo quel sondaggio già dopo quel sondaggio mi avevate chiesto di fare le live il lunedì ed eccolo qua un altro michele grazie mille michele guarda michele queste sono quasi tre best bravo non ne sto più bevendo birra insomma sono sono a dieta ecco però stavo dicendo ad aurora che allora diciamo che ho preso due fave con un piccione perché io ho un piccione che si chiama roberto che ghiotto di forza scherzo ho preso un piccio due piccioni con una fava perché ho avuto dei problemi tecnici venerdì davvero però detto per rischiare all'ultimo di non fare questa live la spostiamo direttamente al lunedì e da qui le facciamo sempre il lunedì e poi aurora io lo devo dire dopo michele è la seconda sostenitrice del canale quindi ho deciso di farle il lunedì quindi da questa settimana le live andranno sempre in onda di lunedì valeria vi sei fidanzato con ora ora dai dillo è certo mi sa che ora è già fidanzata di suo allora allora da leggermi i commenti tanto siamo ancora in pochini oggi perché voi lo sapete che io sono sempre in ritardo ma oggi sono quasi quella alle 19 proprio no allora quindi allora andiamo a salutare allora aurora ciao poi valeria no però guarda valeria ti posso dire che aurora è stata una di quelle l'ho già detto anche in altre live è stata una di quelle che mi ha spinto davvero a riprendere con le live quindi sono molto riconoscente poi c'è valeria come visto ciao quarta maria antonia ciao michele buonasera a tutti valeria buonasera thank you michele questo tu hai letto ovviamente scherzo ovviamente certo valeria si scherza ma tra di noi si scherza allora io non voglio perché ragazzi oggi la live davvero molto lunga e ci sono ci sono tanti virgolettati ci sono tanti virgolettati io dopo appena inizio avevo avviso che non leggero più commenti perché davvero questo è un viaggio poi guardate per la prima volta ho messo perché sapete che mi virgolettati sono sempre incasinati perché poi quando inizio a fare una live faccio come qua no come sabattucci filotto sapete che io non mi preparo mai niente parto dove mi porta il vento vado dove mi porta il vento però oggi diciamo che mi farò aiutare dai innanzitutto mettiamo quella donazione non senti mica le metto quella di aurora perché le tue tu ci sei sempre come una volta mettiamo quella di aurora ma anche se aurora anche l'altra volta donato cioè non vorrei dire insomma mi state sostenendo abbastanza dicevo però questa volta abbiamo o i virgolettati che fanno cronologicamente quindi diciamo che vengo aiutato anche da loro nel ricostruire la storia quindi non è che debba andare a pensare molto a quello da dire quindi io direi di cominciare subito aggiungiamo qua quello di cui ci occupiamo oggi gli alorganesi un fascista nella prima repubblica poi altri trend vi rubo guardate signori altri trend no cosa sto dicendo sono ubriaco senza avere quella di oggi allora innanzitutto quella di oggi non è questa quella di oggi è questa qui quella di oggi è le alorganesi un ventennio d'anti fascista d'accordo la prossima l'avete già letta che è le alorganesi un fascista nella prima repubblica e poi il lunedì successivo non state a guardare la data perché è sbagliata però parleremo di eda ciano musulini la figlia prediletta del luce non chiedetemi di parlare di guarda di israele perché guardate signori non io voglia voglio parlare di quello che mi piace quindi da oggi le live saranno lunedì martedì e mercoledì il lunedì ci sarò io di tutto mettiamo quella di oggi allora il lunedì ecco vedo che sta cominciando a popolarsi quindi possiamo anche partire a mio avviso allora il lunedì scusate ma mi mandano messaggi di lavoro sempre quando io sono in live è una cosa è una cosa incredibile magari non mi cercano tutto il giorno io vado a fare la live e cominciano a mandare il messaggio non lo so perché ma è strano allora ecco ora mi sono bloccato cosa stavo dicendo ah sì allora il lunedì ci sarò io poi il martedì marcomensi vi annuncio già che domani parlerà mi pare che il titolo della live sia i nipoti del luce la destra italiana è ancora fascista poi mercoledì invece marco cimino marco cimino non so di cosa parlerà ma penso che lui parlerà di israele perché ho visto già che te lo sta scrivendo su facebook no quindi sui commenti sono propedeutici per quello che poi dovrà andare a dire a dire a dire live ecco e noi invece oggi parleremo di questo signore vediamo qua ora mi apro qua le foto che per il momento possiamo lasciare anche questa allora signori ovviamente è è una grande provocazione quella che io sto facendo con queste due live non le longanesi un ventennio da antifascista ma come già detto ehm longanesi era anarchico anche quando si incontrò a cesenatico nei primi anni venti con mussolini ehm mussolini gli lo disse bravo voi siete anarchico siatelo ancora è una ricetta per mantenere per per restare giovane no ehm nella sua visione però l'anarchia era quel tipo di anarchia che non doveva assecondare assolutamente l'autorità ma doveva con la satira mostrarne i lati più comici cioè gli longanesi era un disobbediente e antagonista quindi sotto un un uno stato fascista come stato era antifascista sotto uno stato democratico era eh fascista e in questo ve l'ho detto ragazzi oggi ho tantissimi virgolettati perché ci aiuteranno vedrete seguitemi in questo viaggio oggi ci divertiremo e ve l'ho detto ragazzi io da questo momento in poi a meno che non ci siano donazioni del 50 euro io non mi bloccherò sto scherzando ovviamente perché poi tutti dicono guarda qua a varo longanesi era varo longanesi era varo però sapete che faceva ecco vedete come divagui longanesi era varo però tutti dicevano quando andavi a pranzo con longanesi eh lui ti lasciava il conto da pagare però quello che ti lasciava in quello che ti raccontava era un valore inestimabile allora gualtiero jacopetti ehm sceneggiatore scrittore autore giornalista diceva di leo longanesi ecco il perché di questa live mi è venuto appunto sentendo queste parole di di gualtiero jacopetti lui era contro lui era contro resistente avesse vissuto in un'Italia fascista come è stato era antifascista in un'antifascista fascismo era fascista quindi praticamente lui aspettava soltanto la contraddizione longanesi erano anti anti longanesi era una contraddizione in termine affernava una cosa e subito dopo si pentiva di averla affermata perché era capace di dire l'assoluto contrario ma il miracolo era che faceva coincidere come conseguenziale e come logica questa contraddizione questa era la bellezza di longanesi dice gualtiero jacopetti ma adesso vediamo un po' annunce ma chi era in molti in molti me lo chiedono perché è un personaggio sconosciuto longanesi e più in molti me lo chiedono ma chi era leo longanesi io vi dico che ho studiato parecchio longanesi e posso definire longanesi come un uomo che non sopportava le banalità d'accordo ma chi è stato cosa ha fatto longanesi no perché è facile direi non sopportava le banalità ok molti non le non le sopportano no soprattutto quelli che hanno fatto degli studi particolari studi d'elite non sopportano le banalità però nel suo longanesi è stato uno straordinario personaggio nella storia della della cultura italiana è a differenza di quanto si crede che molti pensano che sia stato un grande scrittore eccetera longanesi è stato soprattutto un grande è stato forse il più grande innovatore grafico che abbia avuto l'italia longanesi cambiò il modo il modo di impaginare i giornali ma non solo i suoi tutti i giornali dopo vedremo faremo la comparazione tra omnibus e il corriere della sera di quel periodo eh longanesi cambiò il modo di come posso dirlo il modo di di strutturare di disegnare i caratteri i caratteri bodoniani per esempio lui caratteri lui caratteri se li disegnava d'accordo infatti c'è uno splendido pezzo che longanesi manda alla figlia a nora la figlia del tito del tipografo il quale si occupava di della casa editrice di longanesi e poi in seguito è stato anche pubblicato posto si intitola lettera alla figlia di un tipografo scrive longanesi mia carissima nora più elegante di un corsivo inglese voi pensate all'eleganza di longanesi come si poneva a una signora mia carissima nora tu che sei più elegante di un corsivo inglese poi prosegue gli elzeviri in corpo 10 che tuo padre mi ha spedito la settimana scorsa scorsa sono un po smilzi e troppo chiari per comporre il volume di leopardi io gli elzeviri non li posso sopportare con quella loro faccia da infelici miseri superstiti di una grande famiglia ti prego di a tuo padre di smetterla di usare sempre gli elzeviri e i bastoncini che rilevò l'anno scorso dalla cooperativa operaia del progresso ora non è più tempo di bastoncini con questa libeciata fascista ci vuole ben altro solo bodoni tutt'al più può restare in piedi con le lettere che tagliano come spade con quel carattere austero regolare classico e un po freddo come un doppio petto da grande parata guarda ci sono ciao armando poi cos'è stato dio lunganesi di cosa ho parlato parlato di lunganesi grafico lunganesi è stato un grandissimo giornalista è stato un grande scrittore che scrisse poco poiché lui diceva lui gli ha scritto soprattutto romanzi soprattutto romanzi scusatemi lui ha scritto soprattutto diari ma diari dove ci sono dei racconti che sono dei capolavori e chi gli chiedeva di scrivere il romanzo no tipo anche montanelli lì scrisse sì magari era una cena no come dicevo prima poi il conto lo lasciava a montanelli e lì per esempio lunganesi a montanelli raccontava un articolo così a tavola oppure un racconto e allora lì montanelli diceva senti ma perché non lo scrivi tu ma se c'è legge in testa ma perché non lo scrivi tu e allora lunganesi diceva no io non scrivo perché se vuoi scrivere un romanzo devi ogni tanto piegarti al banale ecco con ovviamente la banalità no diceva lunganesi persino tosto e a un certo punto è costretto a dire che anna carenina si alzò e andò a mettere e appoggiare la fronte sul vetro dalla fine della finestra ecco una banalità del genere la può scrivere uno stronzo come te ma io una banalità così non la scriverò mai lunganesi cosa è stato mi sto facendo l'elenco è una live tecnica questo è una live tecnica poi cos'è stato lunganesi io da cosa da cosa ho preso spunto da fare da fare per fare l'editore lunganesi è stato un grandissimo editore lui organizzava i suoi giornali io non posso farlo noi abbiamo i computer ma lui organizzava i suoi giornali impaginandoli materialmente come ora qui non ho forbici però con un paio di forbici una matita una una lametta che utilizzava per temperarla un vasetto di colla un pennellino no e poi quelle grandi foto che rendevano quei fogli che prima erano bianchi un vero un vero capolavoro e poi è stato qua un altro virgolettato e poi è stato un grande talent scout soprattutto ha scoperto lanciato nel mondo del giornalismo e della letteratura dei giovanissimi talenti come non sa bene stiamo scoprendo l'acqua calda quando tipo indro montanelli e neoflaiano vi ricordate ne abbiamo parlato anche nella scorsa settimana quando adegno flaiano gli scrisse era doveva andare in serie un procinto di andare al primo premio strega e lì allora lunganesi chiese a flaiano perché non mi scrive un romanzo un romanzo sulla sua sulla sua africa il romanzo era a tempo di uccidere e neoflaiano 1946 vise il primo premio strega della storia poi i suoi i suoi allievi che possiamo citare amaro pannunzio artigo benedetti augusto guerriero vitaliano briancati irene brin di cui abbiamo parlato la scorsa settimana vi ricordate quando vi ho parlato di quando irene brin scrisse dopo la morte di l'onganesi che l'onganesi riscriveva non soltanto i suoi articoli ma lei stessa no dove l'onganesi spiegava a irene brin qualcosa di lei che lei stesso non sapeva no e mentre loro insomma come cosa capitava qua un bel virgolettato che me piace parecchio e lo uso spesso anche io mentre loro lo osservavano che poi erano quasi tutti coetanei cioè l'onganesi non ha dovuto aspettare i figli dei propri coetanei per insegnare il giornalismo loro raccontavano sempre che erano intorno al tavolo da lavoro e vedevano l'onganesi che lavorava chino sul tavolo mentre impaginava disegnava o si lamentava no si lamentava di qualche cosa ecco e questo è un detto una cosa che gli insegnava sempre l'onganesi per fargli capire qual era la loro missione diceva l'onganesi noi non siamo né artisti né critici né letterati noi abbiamo solo dei rancori delle antipatie delle convinzioni degli umori e cerchiamo di esprimergli come meglio ci è concesso e qua c'è tutta la natura del giornalismo di leo longanesi dell'anti anti di quello che non deve mai fare l'apologia di colui che sta al potere anzi con la satira deve prenderlo in giro ricordo un detto di 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 longanesi il quale disse gli storici del futuro non capiranno mai quello che a noi sta succedendo come possiamo spiegare il volto di farinacci in camicia nera oppure come possiamo raccontare loro vada memoria e come possiamo raccontare loro il sederone del federale mentre sedie sulla sulla vettura di rappresentanza no? ehm longanesi poi raccontava di essere diventato da fascista ad antifascista in tram quando vide il di dietro di un console della milizia no? questa era la satira che faceva leo longanesi ehm insomma qua appunto stiamo parlando di longanesi un ventennio da antifascista ehm ne abbiamo già parlato la volta scorsa ma appunto per chi guarderà solo questa live questo è interessante ripeterlo perché leo longanesi si affaccia diciamo alla vita adulta quando si comincia a comprendere qualcosa leo longanesi è nato nel Tavagna Cavallo il 30 agosto nel 1905 quindi quando termina la grande guerra ha 14 anni giusto quindi già a quell'età si comincia a comprendere qualcosa eh nel 1918 eh 13 anni scusate e quindi quando si comincia ero già avanti al patto di Versalli quando si comincia a capire qualcosa a quell'età l'Italia ha vinto la grande guerra la quale fino ad allora era stata la guerra più spaventosa della storia caso era 10 milioni c'è chi dice 8 c'è chi dice 10 milioni di morti poi per quanto riguarda la prima guerra mondiale è sempre molto difficile fare dei dei numeri precisi ecco quasi 20 milioni di feriti e mutilati e qui longanesi ci racconta il suo primo appoggio di quei giovani al fascismo di quei giovani di chi faceva parte anche lì a longanesi ma attenzione giovani e meno giovani perché quei signori che stavano là in trincea erano dei giovani che non erano di destra che poi non erano giovani che poi sarebbero confluiti eh sotto il fascismo perché erano di destra ma quei signori erano di sinistra quei signori erano quelli che si sentivano nel dopoguerra traditi da quei governi liberali i quali li aveva appunto mandati al macello sappiamo comandata la prima guerra mondiale no un macello peggio eh insomma forse per alcune questioni è stata anche peggio della seconda perché almeno nella seconda veniva combattuta eh in una maniera differente da un massacro continuo perché qual era la tecnologia della prima guerra mondiale l'artiglieria il filo spinato è la mitragliatrice e si combatteva unicamente in trincea quindi tu piazzi la trincea questo si capì già da subito dal dai primi attacchi tra tre primi attacchi dell'agosto del 1914 nel fronte occidentale tra Francia e Germania la si capì subito che era meglio trincerarsi puntare le mitragliatrici mettere eh il filo spinato aspettare che il mico ti attacchi e tu lo falci completamente con la mitragliatrice quindi la prima guerra mondiale è stata una guerra che ha favorito i difensori e gli attaccanti sono stati mandati al macello lo sapevano quelli che sarebbero andati al macello morivano migliaia e migliaia di persone di soldati per conquistare magari una trincea che stava a 500 metri massimo un chilometro gli italiani perdevamo 8000 soldati per esempio per conquistare un chilometro poi vabbè arrivo a Caporetto nell'agosto dell'ottobre del 1917 e lì i tedeschi ci ricacciarono indietro per più di 100 chilometri ecco diceva Leo Longanesi quando parlava appunto del perché quella generazione ha entrata a far parte del fascismo ha aderito al fascismo ed ecco gli studenti l'esercito sentimentale del fascismo noi studenti figli di borghesi eravamo creduti cresciuti in un clima di ardente passione durante i lunghi quattro anni della grande guerra non dimentichiamoci la grande propaganda che c'è stata durante la guerra la grande guerra soprattutto dopo Caporetto perché prima di Caporetto comunque la guerra dall'Italia era lontana noi stavamo combattendo fuori dall'Italia d'accordo è stato dopo Caporetto che noi siamo rientrati in Italia e lì da quel momento la propaganda l'ha fatta davvero da padrone no perché dicevano i signori signori le sentite le vostre donne prima erano lontane più di 100 chilometri più di 150 chilometri adesso sono qua dietro quindi voi dovete combattere anche per difendere le vostre donne avevamo cantato l'imno di Mameli e di Garibaldi in tutte le manifestazioni dell'intesa per quattro lunghi anni la nostra fantasia era stata guidata dalle illustrazioni dalla domenica del corriere dalle vignette patriottiche e dai bollettini del generale Diaz qua era già più grandetto perché Diaz subentrò appunto dopo Caporetto subentrò nel alla fine del 1917 e qua le unganesi aveva 12 12 anni per quattro lunghi anni aveva murito nelle nostre case di scorrere di fronte interno di resistenza di patria di medaglie d'oro di disertori e quando durante la ritirata di Caporetto sentimo pronunciare la parola socialisti credemmo come molti che quella ritirata militare fosse davvero il frutto degli articoli dell'avanti questo non è affatto da sottovalutare perché anche perché quando questo signori è scritto nei diari questo è scritto nei diari non è che mi stiamo inventando le cose quando magari dei soldati venivano feriti e venivano mandati in volevano andare in licenza in paese il generale Cadorna non li mandava perché diceva no se voi andate in paese in paese vi dicono ma va ma smettetela di fare questa guerra no ma facciamo la rivoluzione queste sono cose che loro hanno davvero vissuto sulla loro pelle e che hanno davvero influito su quel su quel loro modo di pensare fumo le prime candide vittime di quella retorica che 20 anni più tardi doveva condurre molti nostri compagni a morire in Africa avevamo incontrato la patria nei libri di lettura delle scuole elementari e quella patria ci aveva accompagnato al ginnasio e al liceo di classe in classe e alla fine della grande guerra i reduci i mutilati i fanti i valorosi destarono la nostra mirazione e sogniamo di vivere ore di gloria maledicendo la nostra cervo età volevamo ancora con volevamo ancora combattere ma la guerra purtroppo era finita no qua le parole di d'annunzio vi ricordano qualcosa no adoro la guerra se non fosse che il sangue scorre io vorrei che la guerra non finisse mai no parole di d'annunzio e d'annunzio in quel periodo contava davvero per quelle per i giovani ragazzi giovani e meno giovani pensate quanti uomini hanno seguito d'annunzio a fiume le sole fiamme ancora vive erano d'annunzio e la lotta contro i socialisti nemici della vittoria e a questi vaghi mardenti sentimenti su univa il naturale gusto per l'avventura caro la gioventù ancora affascinata dalle letture dei libri di saigari e dei romanzi polizieschi appena infiliamo i calzoni lunghi andiamo a iscriverci al fascio questo è il primo approccio di longanesi di longanesi fascista poi longanesi inizia a scrivere su dei piccoli foglietti bolanesi e da principio il fascismo per longanesi era soltanto una questione di romagna d'accordo longanesi non pensava al fascismo romano al fascismo milanese per longanesi il fascismo era soltanto una questione di romagna di romagna perché vi ricordo era il fascismo della sua bagna cavallo era il fascismo del suo stra paese d'accordo e roma e milano erano roba la stracità quindi per longanesi quel primo fascismo era soltanto una questione di romagna longanesi come dicevo appunto no inizio a scrivere mi pare qualche cominciò a a quei giornali insomma bolognesi importanti tipo l'assalto a partire dal 25 e appunto fu in quegli anni che conobbe mino maccari l'altro nano l'altro nano di stra paese lì avviò la sua collaborazione con il primo grande giornale importantissimo il selvaggio poi fondò l'italiano e nel 26 mi pare se non sbaglio nel lui pensando che lui con tutti gli stra paesani pensando che mussolini voleva resta voleva sono fissato con questo lo dico sempre perché restaurare voleva instaurare l'italia di stra paese era mussolini mussoliniano longanesi da principio non fu mai fascista mussolini fu sempre mussoliniano ma perché credeva che mussolini voleva fare la rivoluzione di stra paese questa era la convinzione di le longanesi ed ecco perché i longanesi era un antifascista nel ventennio ma era invece un mussoliniano un attimo che spengo il ventilatore perché temi di mi trovo liberato dopo non riesco ad andare neanche altro altro uscì mi pare il 26 febbraio del 26 sull'italiano anche se la dicitura la rivista settimanale della gente fascista questo motto che poi fu anche ripreso dal valemecum del perfetto fascista pubblicato da vallecchi una casa editrice di firenze scrisse mussolini ha sempre ragione ma lui quando scriveva mussolini ha sempre ragione voleva fare una satira non è davvero che mussolini aveva sempre ragione e lui diceva in in privato a cena specialmente perché lui lavorava molto a cena per gli altri e di notte per se stesso come diceva raccontava diceva sempre quando si parlava di mussolini ma tu sei mussoliniano non hai paura dei mussolini oramai signori parliamo degli anni venticinque ventisei erano già entrate le leggi fascistissime d'accordo il parlamento era già stato chiuso c'era già stato l'omicidio Matteotti due anni prima l'onganesi rispondeva di mussolini non mi spaventa mussolini non mi spaventa non mi spaventano le sue idee mi spaventano le sue aggette ecco poi comunque fu fondo l'italiano quale chiuse poi nel nel 42 in un periodo in cui l'onganesi era preso dallo sconforto poi dire se l'assalto dal 29 dal 28 dal 28 al 31 e lui fece il suo esordio all'assalto vedete le date me le devo scrivere però fece l'esordio sull'assalto nel 27 quando dai un po di un po di commenti li leggo complimenti per la tua live l'essere umane proprio cretino non impara mai i propri errori però non ve li metto insomma pressione ragazzi li lascio così allora però aspettate letto diamo anche la donazione di di aurora altrimenti poi gli altri si si offendono eccolo qua c'è proprio i virgolettati persi eccolo qua allora sull'assalto quando lui fece il suo esordio nel 27 perché poi l'onganesi era insomma era molto dinamico lavorava con molti giornali per questo soprattutto dopo la chiusura d'omibus nel 39 lavorerà per molti giornali ma noi non ne parleremo perché quello fu un periodo davvero dove l'onganesi diede molto poco del del longanesi d'accordo dicevo nell'assalto quando lui fece il suo esordio non mi ricordo se nel 28 forse e l'assalto era diretto da Giorgio Pini da Giorgio Pini pubblicò questa sua autobiografia quindi era il 28 l'onganesi aveva 23 anni d'accordo allora scrisse sono nato a bagno cavallo nell'agosto 1805 ok 1805 ma questo non toglie che io abbia compiuto ora il 22esimo anno d'età anno quindi era il 27 quindi era il 27 perché ok era il 27 ho bazzicato il ginnasio e il signori ascoltate bene queste parole d'accordo perché stiamo parlando del più grande editore italiano di colui che ha rivoluzionato il giornalismo italiano ancora oggi tutti i modelli di giornali italiani tutti i rotocalchi hanno lo stile di omnibus d'accordo fondato da longanesi nel 37 cui primo numero uscì il 3 aprile del 37 d'accordo e lui di sé scrisse questa autobiografia d'accordo voi pensate premio nobel studi qua sentiamo un po sentite un po sono nato a bagno cavallo nell'agosto 1805 ma questo non toglie che io abbia compiuto appena ora il 22esimo anno d'età ho bazzicato il ginnasio e liceo e sono sempre passato col 6 tutto quello che lo so l'ho imparato in quegli anni poi di questo fece anche un'altra battuta diceva tutto quello che non solo ho imparato a scuola d'accordo la mia ignoranza infinita le apparenze hanno per me uno straordinario valore e giudico tutto dall'abito il mio motto è si vede subito ecco perché voleva sempre essere elegante guardatelo come era vestito longanesi guardate con la catenella qua che teneva l'orologio non conosco il profondo dell'io e ho il coraggio di essere superficiale la modernità non mi esalta ne mi sorprende eccolo qua strafaese se l'automobile mi è utile me ne servo e basta adoro i caratteri bodoniani e le ragazze dalle gambette dalle gambotte cubiste poi adorava le ragazze le ragazze alte lui era basso 1 52 e si innamorava sempre di donne altissime molto spesso quando parlava con queste donne altissime saliva sopra una sedia allora poi poi qua signori finiamo con la prima parte con la parte che riguarda gli anni venti di quando comunque era ancora ancorato a quell'idea a quell'idea di essere vicino a quel mussolini che voleva e che lui pensasse che restaurasse quell'italia di di strafaese ed ecco come vi dicevo qual era la sua idea perché il suo come vi dicevo era un fascismo era un fattore di romagna ed ecco qua lo descrive nella vecchia questo sarà questo sarà signori io ve l'ho detto un video pieno di virgolettati ma questi virgolettati vanno letti perché io non potevo dire a parole mie quello che longanesi ha scritto insomma mi sembrava molto irrispettoso nei suoi confronti nella vecchia casa dei nonni dove io sono nato si conservano ancora sotto campani di vetro i pietti rossi e martin pescatore in bansamati la io sono cresciuto la ho letto dei grandi briganti la ho imparato i proverbi la ho saputo che gare i balli aveva fatto l'italia la ho bevuto il primo bicchiere di vino ora mi ha fatto venire set la in cucina tra i vasi di ceramica bianchi i finti piatti cinesi i bicchieri nani di vetro verde fra un odore di salvia di prezzemolo ho imparato ad essere italiano la mia famiglia è stata la mia scuola e quel che so quel che non so i miei vizi i miei difetti le mie poche virtù li ho tutti ereditati e più gli anni passano più mi accorgo di non riuscire a mutare la strada segnata da quelli di casa mia i quali vivi o morti sono sempre lì a costruire allo stile familiare ed io passo sempre dall'uno all'altro in un alterno variare di esperienze casalinghe sono un uomo inquieto uscito da una famiglia quietissima la quiete mi annoia l'inquietudine mi irrita cercano via di mezzo ma la cerco dove sono sicuro di non trovarla fin da ragazzo ho voluto un gran bene ai lunari al libro dei sogni alle carte da gioco alle etichette delle bottiglie ai ricami ottocenteschi della nonna ok qua finiamo con 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 i lunganesi di strapaese vediamo se io ho già qualche foto da mettervi allora ma pensavo di averne messo di più dai va bene va bene io però qua signori voglio mostrarvi una cosa perché in questi anni leo lunganesi stava stava era direttore dell'italiano no lunganesi fascista lunganesi fascista io volevo farvi vedere una cosa guardate qui chi scriveva sull'italiano di leo lunganesi un certo charlie chaplin no poi questo ci verrà bene anche lo lasciamo anche questo lo lasciamo no vedete come era allora io vorrei raccontarvi una storia di una storia divertentissima perché non si sa se è stato leo lunganesi a farla comunque allora immaginiamoci era il la virgoletta ti non ne ho quindi non mi posso aiutare allora era il vabbè eravamo nel 1931 d'accordo teatro comunale di bologna allora in sala ad assistere allora doveva fare un doveva tenere un concerto un concerto un concerto arturo toscanini d'accordo in sala c'erano leandro arpinati che era è stato diciamo agli inizi è stato il padre spirituale di leo lunganesi fu colui che lo avviò al insomma a quei salotti a quegli ambienti e che il periodo era agli interni mi pare arpinati se non sbaglio e c'era galeazzo ciano no marito di edda marito di edda eh che già gli italiani chiamavano genero del regime e che l'anno prima aveva sposato edda mussolini no e di edda ne parleremo da due settimane ovviamente parleremo anche di 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 galeazzo ciano ovviamente no signori una storia voi dovete dovete assistere perché una storia davvero è stata una storia spettacolare nella sua tragicità sale toscanini sul podio e gli chiedono di suonare giovinezza e pare che toscanini rispose no io giovinezza non la suono io sono solo musica seria allora fuori dal teatro c'era un gruppo di fascisti tra i quali c'era anche le unganesi questi accorrono all'ingresso del teatro sfondono la porta prendono toscanini che era nel palco no lo portano dietro le quindi dietro dietro le quinte e gli chiedono beh allora che si fa si suonano giovinezza toscanini pare che non li abbia neanche degnati di una risposta eh e ha continuato ha cercato di proseguire per andare verso il palco no eh non mi ricordo cosa dovesse suonare toscanini quella sera però loro volevano che i fascisti volevano che lui suonasse suonasse giovinezza no eh allora toscanini non li degnò nemmeno di una risposta eh dopo che i fascisti cominciarono a spingerlo gli arrivò uno schiaffo e giravoce che alla famiglia di longanesi durante una cena eh non mi ricordo chi una un collaboratore dell'italiano disse alla madre di Angela Marangoni alla madre di di longanesi disse gli disse le disse è stato Leo ok quindi questo può essere può essere che che longanesi quindi abbia abbia dato davvero lo schiaffo a toscanini e che sia lui eh ma so ma allora io vorrei parlarvi di di un'altra cosa perché abbiamo parlato di longanesi editore di longanesi giornalista abbiamo parlato di tante cose di longanesi grafico ma non abbiamo parlato di longanesi primo creatore del neorealismo allora il cinema eh nei primi anni trenta stava già cominciando a preparare il neorealismo ma il primo creatore davvero di una lanterna magica no longanesi così con la lanterna magica che illuminava il futuro era Leo longanesi perché longanesi ha azzeccato completamente quale sarebbe stato il futuro del cinema d'accordo eh infatti lui sull'italiano nel poi signori guardate io quando ho fatto mi sa che ho qualcosa qui eh no solo la copertina di Hitler ma sapete perché non sapete perché non l'ho non l'ho non l'ho presa la copertina perché io voglio fare io stavo rivedendo i numeri di Omnibus e i numeri dell'italiano sia ieri notte che questo pomeriggio signori dalla bellezza cioè io mi stavo sentendo male perché abbiamo del materiale con con insomma le riviste digitalizzate abbiamo del materiale che noi possiamo andare a consultare che è fantastico anche se saremo in due a me non interessa io certe cose al mio pubblico devo farle vedere perché sono davvero delle perle comunque nel era mi pare il gennaio del 33 sì perché chiuse il numero nel dicembre del 32 quindi il numero uscì nel gennaio del 33 un numero completamente dedicato al cinema e qua ho preso un virgolettato ho preso solo un virgolettato allora e scriveva le unganesi nel gennaio del 33 tra l'altro anno in cui ma vabbè dai stiamo ancora parlando di cinema lasciamo ancora Charlie Chaplin allora scrisse il film italiano è una serie di cartoline patinate messe in fila assistere alla proiezione di una di una pellicola allora io rinizio e voi pensate che queste questa questa frase di longanesi sia scritta oggi d'accordo sul cinema di oggi e sulla televisione di oggi d'accordo il film italiano è una serie di cartoline patinate messe in fila assistere alla proiezione di una pellicola nazionale è come sfogliare un album di vecchie un album di fotografie di un villeggiante nostalgico ogni film è uguale a quello precedente occorre saper dare un'interpretazione della realtà la nostra cinematografia al contrario sia contenta di ritrarre gli aspetti più sciocchi della vita italiana senza senza aggiungervi un grano di intelligenza una protesta una critica ve lo d'accordo poi in piena propaganda fascista longanesi scrive sempre sull'italiano stiamo parlando del 32 d'accordo quindi siamo sempre 32 33 quindi siamo sempre sull'italiano ripeto in piena propaganda fascista sentite quale attacco che fa al fascismo e alla propaganda fascista il film italiano è morto nel 1913 dal 13 al 22 si è sfruttata un'industria dal 22 quindi dall'avvento del fascismo ad oggi si sono perduti inutilmente dei quattrini quindi il fascismo con la sua propaganda ha fatto perdere soltanto dei quattrini alla cinema ai produttori eccetera non si è fatto nulla di giovevole né per l'industria né per un film le organesi alla fine propose addirittura di abbandonare gli spettacoli di prosa no e qua mi trovo d'accordo ne parlavo con una mia amica da poco qualche giorno fa gli spettacoli di prosa anche tuttora signori cioè io sono un fan sfegatato di carmelo bene d'accordo perché devi far finta di avere un sentimento che non possiedi perché tanto lo sa lo spettacolo non stai la tua la tua emozione non la mandando ora non voglio fare l'esperto di teatro però la tua emozione non la stai mandando al allo spettatore se modifichi diciamo se modifichi il tuo movimento corporeo diciamo cioè vi guardate per esempio la macbeth di carmelo bene cioè ci sono delle scene dove in altri spettacoli c'è gente che corre da una parte all'altra invece lui riesce a fare macbeth seduto così soltanto cambiandosi una fascia dove nel quale nella quale c'è un punto rosso dove il punto rosso di cambia di dimensione no comunque andiamo avanti stiamo divagando però feriamo anche una live su carmelo bene e scrisse a proposito non credo che in italia non credo che in italia occorra servizi di scenografi per costruire un film aspettate ecco sì era questo il pezzo allora io quando ho fatto all'università poi mi dite che di vago signori non sono il sabato ci vi d'ho già detto vi dico quello che mi viene in mente io quando ho fatto l'esame di cinema all'università di cinema era un esame da sei crediti e l'argomento era il neorealismo d'accordo con professor david bruni che se mi segue lo saluto grandissimo professore nella prima lezione io lo sapevo già lui dove stava andando a parare e allora lui ha detto proprio la prima lezione ragazzi parlando di neorealismo lui stava dicendo stava raccontando stava spiegando che io racconto lui qua lui spiega la lezione stava spiegando che già nei primi anni trenta c'era uno scrittore che aveva allora professore scusi gliela di cui ho la frase a memoria era questa la frase di longanesi d'accordo quella che ha anticipato dieci anni prima d'accordo perché se noi possiamo contare il primo allora il primo film neoralista dovrebbe essere roma città aperta d'accordo ma io ci metto ossessione d'accordo perché mi piace mi piace che il neorealismo sia nato con ossessione ok allora scriveva longanesi dieci anni prima dalla nascita del neorealismo non credo che in italia occorra servizi di scenografi per costruire un film noi dovremmo mettere assieme pellicole quanto mai semplici e povere nella messa in scena pellicole senza artifici girate quanto più sia quanto più si può dal vero è appunto la verità che fa difetto nei nostri film bisogna gettarsi alla strada portare la macchina da presa nelle vie nei cortili nelle caserme nelle stazioni basterebbe uscire per strada fermarsi in un punto qualsiasi e osservare quel che accade durante mezz'ora con occhi attenti e senza preconcetti di stile per fare un film italiano naturale e logico questa è la nascita del neorealismo e neorealismo l'ha inventato leo longanesi d'accordo poi stavamo parlando di qua siamo nel 1933 signori nel 1933 cambia cambiano un po di cose perché qua come vedete affacciato al balcone della cancelleria 30 gennaio 1933 adolf hitler il presidente del reich hindenburg nomina adolf hitler cancelliere che continua a vincere le elezioni tramite il suggerimento di frank von papen hitler scrive una lettera aperta a hindenburg dicendo che rispetterà la democrazia la repubblica di weimar la costituzione l'anno successivo a febbraio dopo un anno e un mese hindenburg muore hitler unisce le due cariche da cancelliere da presidente della repubblica si crea la dittatura e da lì e da lì si arriva qua dove sei e da lì si arriva qui si arriva a venezia giugno 1934 primo incontro ciao silvia primo incontro tra hitler e mussolini a venezia vedete mussolini in divisa hitler qua aveva un terribile cappotto un un cappello che teneva in mano di che non sapeva che farsene delle scarpe gialle un giornale francese verruaro scrisse sembra ragazzo di bottega di un idraulico no poi il mese successivo qua hitler fece delle delle rivendicazioni a mussolini fece delle rivendicazioni a mussolini per quanto riguardava l'austria no gli disse ma mio duce uno dei dieci punti di wilson era l'autodeterminazione dei popoli eppure noi anche gli austriaci sono tedeschi perché noi non possiamo unirci alla germania no perché noi non possiamo unirci all'austria su date ragazzi mi è passata quasi un'ora sono abbastanza stanco gli disse quindi fece rivendicazioni sull'austria gli mussolini gli disse guarda ciccio non ci pensare nemmeno allora dopo un mese i nazisti austriaci ammazzano il 25 luglio del 34 assassinano nella cancelleria di vienna il cancelliere austriaco dolfus amico personale di benito mussolini il quale aveva già le valigie in mano quasi in mano le aveva pronte nel suo ufficio perché doveva raggiungere a riccione mussolini e la moglie di dolfus aveva già raggiunto e la moglie di dolfus aveva già raggiunto la famiglia mussolini a riccione appunto con i figli quindi gli assassini austriaci uccidono dolfus tentando un colpo di stato mussolini manda quattro divisioni al brennero prende il telefono chiama hitler gli dice gioia se soltanto un tedesco entra se soltanto un nazista entra in austria io ho già le quattro divisioni al brennero vengo ti faccio guerra e la guerra li mussolini contro contro la germania di quel periodo l'avrebbe anche vinta chissà come sarebbe cambiata la storia no sarebbe un bel approfondimento e qua perché io sto venendo a parlarvi scusate mi dite voi mi dite ma stefano ma questa è una live soldi o longanesi sì perché guardate qua no l'ha presa per il culo che ha fatto longanesi a longanesi a hitler no guardate qua questa è la copertina questa è la copertina questa è la copertina questa è la copertina dell'italiano no guardate dove viene preso in giro in giro hitler poi la prima pagina del sempre di quel numero quel numero fu questo numero fu completamente anti tedesco longanesi in quel periodo siccome il suo grande collaboratore fu giovanni ansaldo lo era l'italiano ma lo fu soprattutto dopo quando fece l'ibraio e quando fece il borghese e l'onganese di 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 san saldo lei è più esperto di me di germania se ne occupi lei ed ecco qua il numero era completamente anti tedesco figurato pensiamo a quello che è successo dopo ma anche il discorso di mussolini a bari no cioè dopo quello che è accaduto no noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo talune dottrine d'altralpe di gente che ignorava le scrittura per documenti per ricordare documenti della propria vita in un tempo in cui roma aveva cesare virgilio ad augusto quindi tutta l'italia era anti tedesca in quel periodo ma voi guardate qua cosa scriveva non so se lo leggete miscellane ariane per esempio piccoli annunzi ariani cerco ragazza protestante ariana pura bionda snella e che possieda mezzi di famiglia il nostro futuro razzista e affidato all'individuo donna che di nuovo deve preparare all'uomo una casa nel proprio cuore risvegliare in lui il desiderio della paternità va bene poi li vedremo questi numeri di questi numeri insomma qua allora con le foto mi sto un po ingazzinando scusate allora intanto facciamo un saltino avanti perché stiamo già nel frattempo io prima allora voglio farvi vedere un'altra cosa ma sì eccola questa è una foto che fece in bestialire hitler vedete qua hitler in frac questa foto qua fece in bestialire hitler voi pensate che dopo l'otto settembre hitler si ricordava che longanesi sull'italiano aveva pubblicato questa foto perché qua hitler che passava il picchetto qua uscì dall'opera però hitler non voleva farsi vedere in frac no perché diceva che era poco militare giusto quindi longanesi pubblicò questa foto di hitler sull'italiano per il momento lasciamo questa foto che ci viene buona ecco intanto cosa accade accade che l'anno dopo mussolini decide di far guerra decide no di andare a conquistare il posto al sole un posto al sole no gli italiani in spiaggia no tutti gli italiani in spiaggia prendendo il sole sentono e sentono mussolini che dice l'italia ha diritto al posto al sole ok va bene d'accordo abbiamo già ancora dobbiamo andare a conquistarlo no quindi 35 36 e lì mussolini pensa di fare un giornale che parlasse della conquista della conquista africana e chiamo appunto longanesi perché aveva aveva visto tramite mussolini era era un grande conoscitore di giornali anche se poi vedremo alla fine che insomma vi racconterò un aneddoto che forse vi farà cambiare idea però mussolini era un grande conoscitore di giornali e quindi per l'impresa d'africa intendeva fare un giornale aperto alle masse appunto che si chiamasse omnibus e lo voleva affidare a longanesi no gli disse gli disse longanesi erano amici non sono vabbè amici per quello che si può essere amici tra insomma erano conoscenti collaboratori e volle che longanesi costruisse un giornale per per mostrare agli italiani quel mondo africano che noi avevamo andati a conquistare no quindi grandi fotografie grandi paesaggi no eccetera e longanesi longanesi accettò all'inizio euforico infatti scrisse un altro video rettato quando stava progettando omnibus quindi qua stiamo parlando fine 1936 inizi 1937 scrive longanesi è l'ora dell'attualità è l'ora delle immagini il nostro nuovo plutarco l'obiettivo kodak che uccide la realtà con un processo ottico e la fissa come lo spillo fissa la farfalla su cartoncino oggetti e persone fuori dal tempo dello spazio delle leggi di casualità divengono una visione la fotografia coglie il mondo in flagrante diamo tante immagini accanto a testi ben fatti ecco un nuovo genere di giornalismo signori e qui nasce il rotocalco qui nasce omnibus qui nasce il giornale padre o madre non lo so vedete voi di tutti i giornali che sono usciti dopo il 1937 anche di quelli attuali e adesso vi faccio vedere come era allora omnibus uscì il 3 aprile del 1937 ok adesso io vi mostro però prima la prima pagina del corriere della sera di quel giorno ok per farvi vedere come erano i giornali così così è troppo però ecco allora questo è il corriere della sera questi erano i giornali d'accordo quindi il 3 aprile del 37 gli italiani vanno in edicola e vedono il corriere della sera e poi vedono il primo numero di omnibus che adesso vi mostro notate qualcosa di diverso notate l'uso della fotografia diamo tante immagini accanto a testi ben fatti lo notate signori guardate qua la bellezza di questa rivista questi 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 caratteri longanesi li faceva a mano come dicevo prima se li disegnava questi caratteri sono bodoni che lui modificava nel suo studio no con un con una lametta con un con una matita con un con una squadra no è questo era omnibus è omnibus poi arrivano i primi incidenti arriva l'incidente omnibus esce il 3 aprile del 37 e il mese il mese successivo arriva l'anniversario della conquista dell'impero quindi il minculpot manda le verine a tutti i giornali naturalmente anche a omnibus dove bisogna glorificare la conquista dell'impero la superiorità della stirpe italiana tutte queste stronzate qua no ecco e quindi arriva erano in redazione ad omnibus via del sudario c'erano longanesi montanelli benedetti sono stanchino ragazzi non mi ricordo non mi ricordo va bene comunque arriva questo questa notizia dalla velina non bisognava esaltare allora lì al longanesi ci pensa ma come facciamo non possiamo come vi ho già detto esaltare qualcosa il potere per longanesi insomma non 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 era possibile ecco allora disse pensa un po e disse appunto a montanelli a benedetti gli disse andate al minculpot e fatevi dare la collezione reuter di tutti i bollettini della guerra della guerra della stefani e dalla societat press e portatemi no e uscì questo numero di omnibus eccolo qua romanzo di un anno allora grandiamo romanzo di un anno allora vedete eriot l'orizzonte internazionale non tarderà a scarirsi la home fleet è entrata nelle acque del mediterraneo gli abissini hanno scavato lungo al confine larghe buche simile a quelle per catturare le belve in queste buche cadranno in trappola le tante italiane che oseranno avanzare insomma cosa fece in questo collage loro i ragazzi portarono tutti questi dispacci longanesi di prese li mise tutti sul tavolo e cominciò a fare il collage no come vedete questi bollettini erano avversi al avversi alla guerra italiana no e poi alla fine quaggiù il telegramma di badoglio le truppe italiane entrano in adis abeba c'è quindi longanesi non ha fatto l'apologia di mussolini e della guerra ha soltanto riportato quello che gli inglesi no gli inglesi quelli tutti quelli tutti quelli francesi tutti quelli che erano avversi a noi no avevano riportato quindi lui non ha glorificato mussolini ma ha ha criticato il lavoro degli inglesi no quindi questo è stato un grande capolavoro una una prova di giornalismo di longanesi davvero straordinaria che soltanto un genio poteva concepire questo no invece tutti gli altri giornali la grande vittoria italiana eccetera eccetera invece lui qua apologia a mussolini non è affatto infatti mussolini se la prese tantissimo e fu da qui che cominciarono i primi attriti tra mussolini e i longanesi anche perché mussolini gli diceva guarda che tu mi dovevi fare un giornale sull'africa e africa longanesi su omnibus ne metteva molto poco sta di fatto che alla fine arriva il il gennaio del 39 e alberto savinio scrisse era il 28 gennaio nel numero del 28 gennaio del 39 quindi siamo quasi allo scopo della seconda guarda mondiale manca pochi mesi sette otto mesi e scrisse un articolo intitolato il sorbetto di leopardi allora in pratica savinio che tra l'altro era anche un grande un grande pittore andò a napoli per raccontare per raccontare le celebrazioni che si tenevano a napoli appunto per celebrare i cento anni della nascita di giacomo leopardi d'accordo siamo nel le parli è nato nel 1839 quindi stiamo parlando del 39 o nel 38 se non mi ricordo vabbè comunque è un'importante allora savinio no seguendo la satira di longanesi dicendo tanto sono protetto da longanesi che ci toccano no per savinio savinio scrive che leopardi era morto di cacarella a napoli per aver ingerito dei gelati in delle caffetterie poco pulite no e e niente e fu questo che insomma questo articolo di savinio fu preso come pretesto con il quale il regime tentò di nascondere la vera ragione eh di fondo che era politica ehm perché non mi ricordo ehm ah ecco perché ecco perché perché eh nel appunto nell'articolo savinio aveva scritto voi conoscete il caffè gambrinus di napoli signori fantastico è stato tra a cavallo tra 800 e 900 è stato il ritrovo delle più grandi menti che ci siano state italiane francesi inglesi russe no e aveva e il caffè gambrinus era stato chiuso perché nel piano superiore abitava la moglie del prefetto di napoli e siccome eh si lamentava del fatto che facevano schiamazzi all'interno del caffè venne chiuso e quindi lì savinio scrisse chi l'ha chiuso è un asino no quindi il prefetto di napoli andò dritto da mussolini gli disse oh guarda che in questo giornale mi danno dell'altro il prefetto era scelto da mussolini eh guarda che in questo giornale mi danno dell'asino cosa fai e lì mussolini chiuse omnibus decise di chiudere di chiudere omnibus ma l'onganesi andò tentò di di farlo riaprire ma non non ci riuscì non ci riuscì lì mussolini fu impassibile anche se il loro rapporto proseguì il loro rapporto proseguì lì poi tra l'altro lì l'onganesi era anche in pronuncito di sposarsi con la moglie Maria eh andò in andò in Libia che era il governatore di Tlobaldo mi sentite problemi di connessione signori anche la connessione è stanca allora lì l'onganesi andò in Libia dove il governatore era Italo Balbo eh lì racconta nel nel suo diario delle splendide eh splendidi paesaggi libici insomma e racconti si racconta ma non si sa se è vero perché siccome Balbo era molto scherzoso faceva anche degli scherzi pesanti e siccome l'onganesi era alto quanto il re Vittorio Emanuele III no eh l'onganesi fu vestito da dal re Vittorio Emanuele III e fu passato eh su un'auto scoperta no fece il giro di Tripoli così facendo finta di essere il re e là tutti i libici il re il re Vittorio Emanuele III invece quello era l'onganesi no poi lì l'onganesi subì un periodo che insomma non non proprio felicissimo della sua vita perché la sua creatura omnibus insomma era stata chiusa e signori l'onganesi è stato omnibus e omnibus è stato l'onganesi ve lo dice uno che l'onganesi lo studia ormai da più di dieci anni eh lavorò per vari giornali per oggi per fronte lavorò anche per la propaganda durante la guerra poi eh arriva il fattaccio lo scrive l'onganesi sul suo diario 11 11 dicembre 1941 per Roma si sparge la voce che Montanelli deve fare un Montanelli sì scusate Mussolini deve fare un appello da Palazzo Venezia e tutti pensano che siccome la Wehrmacht che aveva attaccato pochi mesi prima l'ordine sovietica era le porte di Mosca quindi molti pensavano che Mussolini doveva annunciare l'armistizio della dell'unione sovietica no e invece Mussolini dichiara parla eh dichiara guerra agli Stati Uniti d'America no dopo la dichiarazione degli Stati Uniti d'America Mussolini chiese separatamente sia all'onganesi che ad Ansaldo no eh gli chiese che cosa ne pensassero del conflitto no ma secondo voi eh vinceremo questa guerra contro gli Stati Uniti contro la Francia contro la Francia l'ha già vinta contro il Regno Unito eccetera poi entrambi si consultarono eh gli disse ma l'onganesi chiese ad Ansaldo ma eh tu cosa gli hai chiesto e dice e gli ho chiesto Duce ma lei ha mai visto l'elenco telefonico di New York e poi gli rispose ma guarda Mussolini non mi ha risposto ha scrollato le spalle così e e poi invece tu Leo e gli ho detto e l'onganesi gli disse guarda io gli ho suggerito di guardare i numeri della rivista Times le live scusate e poi aggiunge l'onganesi e sai cosa mi ha risposto Mussolini vi sbagliate è più bella la rivista il popolo d'Italia ed entrambi sospirarono insieme Ansaldo e l'onganesi non c'è scampo abbiamo perso la guerra signori questa live dovrebbe finire qui e questo abbiamo perso la guerra noi ci dobbiamo fermare qua perché oggi abbiamo parlato di io avrei finito quindi ditemi ditemi se questa live vi è piaciuta è stata fatta col cuore ragazzi ve ne siete accorti ve ne siete accorti sì perché qua abbiamo parlato di l'onganesi da da quando era ragazzino praticamente fino al 25 quindi siena quando appunto siena quando è finito il fascismo insomma perché poi l'onganesi dopo l'otto settembre andò a Napoli e lì si ritrovò e lì si ritrovò sotto la Napoli occupata dagli alleati e quindi lì finisce il periodo eh sotto il fascismo di Leo Longanesi però io vorrei raccontarvi come ultima cosa con l'ultima 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 voce che mi rimane io vorrei raccontarvi qua cosa scrive longanesi quando qual era eh diciamo il clima quando decise di di lasciare di lasciare Roma e di andare a Napoli allora scrive eh poi quella è anche quella signori è è un'avventura spettacolare quella di longanesi a Napoli ma poi ci sarà parleremo della casa editrice della longanesi e ci insomma anche quella sarà una live abbastanza lunghetto questo pezzo però dai ve lo voglio leggere ehm allora Stefano e io Stefano e Stefano Vanzina Steno Stefano e io andiamo a trovare Fantoni che abita in Prati a Roma eh stanno andando a chiedere poi parleremo anche del film eh dieci minuti di vita ci divertiremo con la settimana prossima l'attore Fantoni si è alzato dal letto certamente da pochi minuti qua sono dopo l'otto settembre i suoi occhi infatti appaiono più gonfi del solito però mi sollevo perché altrimenti viene allora venite qui staremo più comodi borbotta spingendoci in camera da pranzo Stefano spiega il perché della nostra visita vogliamo affidare all'attore una parte in un film Fantoni ascolta vago distratto anusando di tanto in tanto il proprio alito nel cavo della mano sta bene accetto dice suonando con la punta delle dita una specie di marcia funebre sul tavolo guarda le pareti uno dei tanti quadretti auglioli appesi parliamo piuttosto di quello che succede esclama Fantoni avete sentito la radio poco fa ha già fatto i nomi dei giornalisti che vogliono arrestare tira una brutta aria batte ancora le dita sul tavolo guarda il quadretto poi seguita eh sì c'è poco da scherzare chi si è compromesso col governo badoglio è bene che tagli la corda io non ho nulla da temere perché sono sempre stato in disparte ma se vogliamo essere obiettivi tutta la campagna contro Mussolini in questi 50 giorni è stata bella forse incontro lo sguardo di Stefano pensiamo certamente la stessa cosa non ne parliamo dico una cosa indegna disgustosa ma ora qualcuno pagherà aggiunge l'attore guardando un altro quadretto poi un altro e un altro ancora allora siamo d'accordo su tutto dice Stefano per superare la pausa di silenzio che si è aperta d'accordo risponde Fantoni ci accompagna la porta attraverso un buio corridoio un gombro di biciclette e aggiunge prima di lasciarci brutti tempi brutti tempi appena la porta si chiude ci guardiamo in silenzio parlare è inutile il clima fascista è ritornato e con lui la funzione la finzione e la paura le poche frasi dell'attore il tono della sua voce soprattutto bastano per chiarirci a un tratto quel che sta accadendo scendiamo in fretta le scale siamo da capo dice Stefano non c'è da perdere un minuto dice sottovoce bisogna fuggir via e qua oi mamma qua signori termina la live di oggi e termina proprio nel momento in cui la riprenderemo lunedì prossimo dove parleremo di longanesi un fascista sotto l'Italia repubblicana e democratica io vi saluto vado al poeto non so se andrebbe al poeto a bere una birra perché mi avete fatto venire buona di birra un caro saluto